L'azienda di trasporto TUA ha presentato oggi nella sede di Bazzano i nuovi sei bus che entreranno in funzione nella provincia dell'Aquila da domani. Dall'inizio dell'anno si sono acquistati 14 nuovi autobus a fare gli onori di casa, il presidente e il direttore generale di TUA Gianfranco Giulianti e Maximilian Di Pasquale, accanto ai sindaci del capoluogo di Avezzano Pierluigi Biondi e Gianni Di Pangrazio. Sei nuovi mezzi che si aggiungono alla flotta dell'azienda e che vanno ad ammodernare anche il parcomacchina attualmente esistente. Sono di ultima generazione, dotati delle più moderne tecnologie, a bassissime emissioni, con sistemi all'avanguardia, legati al ricircolo dell'aria, al servizio biglietteria con posse, al contapersone ad esempio. I viaggi saranno monitorati dalla centrale operativa, scelte sempre più green, quelle dell'azienda, dice Giulianti. Sono sei dei 14 che dall'inizio dell'anno abbiamo consegnato per rinnovare la flotta TUA. Abbiamo detto e stiamo mantenendo il nostro impegno di diventare sempre più green. Questi sono autobus Euro 6 che hanno impatto praticamente nullo sull'ambiente e ci sono una serie di caratteristiche in termini innovativi per le quali l'autobus è monitorato H24, per lo meno per tutto il periodo in cui viaggia, dalla centrale operativa di TUA. C'è un sistema di autospegnimento di eventuali incendi che dovessero prepararsi al motore e ci sono tutte problematiche correlate alla nuova aerazione che sono un dato importante per quello che riguarda il ricambio dell'aria per ragioni connesse alla pandemia.